Con il sindaco Andrea Cefa che ha appena annunciato la composizione della nuova giunta, in realtà la nuova giunta è rimasta quasi invariata, c'è l'ingresso di un solo assessore e un rimescolamento di deleghe. Il senso di questa operazione, secondo Cefa, dato che la situazione politica è sostanzialmente abbastanza congelata? No, io quando ho parlato di azzeramento della giunta ho dato la possibilità alle forze politiche di valutare l'opportunità appunto in quel momento di fare scelte anche differenti senza entrare nel merito, non per una valutazione del merito quindi dell'operato degli assessori ma per un cambio in corsa che poteva essere funzionale sia alle forze politiche che anche all'operato dell'amministrazione. Mi è stato chiesto di riconfermare sostanzialmente tutti gli assessori, l'unica sostituzione che ho dovuto fare è quella di sala ed entra Riccardo Ghia a cui faccio ovviamente i miei migliori auguri e poi si sono concordate alcune sistemazioni di deleghe sia per accordi politici che per una miglior funzionalità della macchina amministrativa. Quindi per cercare di concentrare alcuni aspetti ma per rendere più efficiente l'azione della macchina amministrativa. Sono un rimescolamento di deleghe concordato con le forze politiche? Concordato con le forze politiche a livello cittadino? Concordato con le forze politiche a livello cittadino come ho sempre fatto quando c'erano questioni che riguardavano ovviamente l'assetto dell'aggiunto del Consiglio quindi il mio riferimento sono i segretari cittadini. Qualche preoccupazione per certe requietezze che ci sono in alcuni di questi partiti della vostra maggioranza più a livello provinciale che a livello cittadino? Io non entro nel merito nel giudicare le scelte organizzative interne ai partiti che fanno gli altri partiti della coalizione perché sarebbe scorretto e non sarebbe giusto da un punto di vista politico. Faccio i miei migliori auguri ai nuovi responsabili all'interno di Forza Italia quindi il vice coordinatore regionale e quello provinciale. Però ecco non posso entrare nel merito di eventuali problematiche che possano essere nate all'interno di uno dei partiti che sostengono la coalizione. Ripeto io finché il mio riferimento è il segretario cittadino e continuo a rapportarmi con le segreterie cittadine nel pieno rispetto dei ruoli. Grazie